Bella a tutti i belli e i brutti ragazzoni, benvenuti in questo nuovissimo video ragazzi guardate che set up Ma chi c'è qui? Ciao! C'è il cappello del bronzare, il sortello Mamma mia rega, veramente viene qua anche con il prodotto official, cioè con il cappellino e la spocchia Cioè, ragazzi, quest'oggi giornata speciale ragazzi, perché? E poi mi dice, perché? Allora Innanzitutto invitami perché c'è l'un disturbare e non te posso invitare Ah, ok, 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 eh regà il tortello E lasciate un pollicione per il ritorno di Crax, eccolo il tortiglione Ok, oggi giornata importante perché come vi avevo promesso ci doveva essere la scioppata ragazzi Ebbene sì, come potete vedere, allora già dall'Igm e dall'oro avete occhiato qualcosina In niente regà, prima di fare la scioppata io qui vado a inserire il codice di fiducia Per fortuna Solo un codice Only one codice Only one axe Bene, bene, questo fondamentale E poi ragazzi, eccole, mamma mia Allora, andiamo subito, su Pai per igna Via, acquistiamo Vai Acquistiamo, noi qui non teniamo niente Puff Via, mille rose, ve spara in bocca Mamma mia che roba Tanta tanta roba E poi rega lui L'amore mio, l'amore del canale Il lupacchiotto, mamma mia, è lui Pa Guarda che robetta Sono belle, su skin No, io comunque voglio chiedere la Supercell Se riesce a mandarmi un pacchetto di quei biscottini Cioè se fanno un pacchetto di quei biscottini Secondo me è tanta tanta roba Ragazzi, questo episodio supera 2000 like E se può fa Tortello, Chopin e Shelly Tanto Mamma mia Allora, rega, io se ve racconto quello che mi è successo Voi non ci credete Il genio di Tortello che ha fatto Ha shoppato l'evento L'offerta dell'evento Quella delle gemme E poi mi è uscita fuori l'offerta quella lì del livello 100 Con le stesse gemme alla metà del prezzo Alla metà del prezzo più l'oro Perché l'offerta quella lì che ti dava delle skin Era solamente per le skin Cioè quando non letta Sei il peggiore, guarda sto lupetto quanto è bello Ma anche poi è meraviglioso No, ma le rose, le rose sono veramente, veramente fighe Ma proprio lei è bella Poi c'è quell'altra skin solo rosa Non c'aveva senso Invece questa qui Dopo circa quasi un anno di gioco Hanno fatto un po' Ma sono il Mortis Vai, venga qua Mortisio No, gli è ridato qualcuno Metiscelli Beh, Corvo Che fa male Buono Li proviamo entrambi ragazzi Quindi seguo quanto l'episodio Perché col tortillone facciamo coppe Bello Vai Cerco di tenertelo un po' Ok, lo puoi colpire Tanto quello muore se taglia Oh, e basta però Basta Morto, easy Oh, stavo fa un attimo da auto M E l'abbene Lo ha zannato male Ha zannato tutto Ma l'hai visto quanto è Mamma mia quanto è cattivo C'ha pure le borchie Sì, è vero che si può scambiapennita Che è abbastanza simile a nita Però è bello Vai Sì Il tortillone Il calamaro Buono che questa me la prendo io No, no, no Mamma mia, che riesco a 139 Per andare dietro a fire Ho fatto un casino Mi è andata pure bene Mamma mia Ok Tortè, si comincia col botto Attenzione Oh No, non ho peccato Vabbè, comunque ce ne è molto Attenzione Not, not bad Alla, Shelly Stanno tutti sopra Tutti qua Bull lo mangio Ok Arriva Leon, 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 Leon Buono Holly the Piper E poi gli vedete la calavera Poi gli vedete la potenza Nella calavera Sì Mamma mia La skin è più forte E via Che potenza questo tortello Col codice Crax Ragazzi Il codice Allora Ne facciamo un'altra con Piper Poi due finali con Leon Onesto Onesto Vai Ci siamo Eh, magari Magari Holly the win Never drop ragazzi Tortello Crax Never drop No, non è vero regà Non dimostre cose Perché potrebbe nulla a servire In un attimo Arriva il cheat No, più che altro Ma a parte sta mappa È È un po' Un po' Una rogna Perché Alla fine Sembra facile Ma in realtà Non lo è Poi certo Vabbè Con Piperigna Tipo ecco Questa killetta Così sulla faccia Ah, niente Questo torti Mamma mia Ok, io sto prendendo power up esterni Ok, io non so Mamma mia È già quattro power up È un pazzesco Comunque ci sta C'è un po' Da questa parte Che me lo prendo io Easy No, eh Qui c'è moro E invece me ne vado Resto qui Appizzato Ok, questo è morto Qua dovrebbe esserci qualcun altro C'è un doppio leone Boraccio Quel corpo ragazzi Aspetta zi Ok, attento che c'è sta Piper Eh, lo sapevo Però quel corpo Boraccio Quel corpo ragazzi Eh, questa Paperigna Paperigna Questa qui è un po' Oh, attenzione Eh, questa vuole già un pare, sicuro Eh, guarda che Te lo spara Te lo spara Oh Oh Pelo pelo Però non puoi colpire BIM Ma vieni qua senza skin Ma dov'hai senza skin Vieni qua Vieni qua Te lanci un po' Tossetti addosso Ti è Un po' di friskis Allora qui c'è un altro Mmm Un altro lupetto Bim Easy Vai, no, è bello Ok Piper, Piper, Piper Piper, Piper Piper, Piper Mia Stavo per buttare via Una power up Ok Tre squadre Bim Tanto quella è tua Per te L'hai ammazzato quattro volte Io sto fan emesi Veramente Boraccio Ma smetto di giocare Ma sei in mezzo Nomba addosso E mi ammazza Ho chiamato questo corvetto Poverino No, eh Questa qui c'è sta bene addosso Questa jumpa Vai tranquillo Eh, ma Ho jumpato anch'io Eh Qui non Non si scherza Non si scherza Ci penso io Questi li prendo Easy No, no, no Come Isiri Ho detto Easy Mi sei buggato tutto Mi sei buggato Corvo Jumpa Piper No, no No, Rinata Rinata No, Leon Mannaggia Leon Ammazzate Leon sotto Bravo Buono Hanno del più 9? Non ci credo Non ci credo Mamma mia Ma che cos'è? Mamma mia Qui veramente Vabbè Io spero che l'hanno notata Cioè dopo anni Sono riuscito a mettere Il doppio setappino Attenzione E poi ci sta a portare Pure bene Ci sta a portare bene Ma il codice Grax Il codice Grax L'abilità L'abilità cosa vuoi? Velocità o cura? Velocità Ok Ti voglio bello dati Ma ce le tutti a 10 Tortello Ma quanto hai scioppato? Te lo giuro Ieri stavo a far conto Dico io non ce sto a credere Dico ma quanto ci ho speso Su sto gioco? Dico io no Non lo so Ma infatti Voglio andare a vedere Tutte le Il resoconto su Play Store Lo voglio andare a vedere Dai 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 Facci un video Facci un video No 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 perché mi sento male Quanto ho scioppato Su Brawl Stars A 3000 like ragazzi Tortello lo fa Però diciamo Aia 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 Questo fa male eh Bisogna predictare un bel po' Vabbè Prendiamoci questa Mamma mia Ma gli di la lossi Gli di la lossi È figo eh Che cattiveria Però fidate Tortello Non sottovalutare Shelly Che è bella pure Eh la streghetta La streghetta A me mi piace veramente tanto Il gatto Rega Il gatto Io non so Forse per i più Per i più attempati Ragazzi mi ricorda Come si chiama il gatto Sabrina no Salem 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 Sabrina vita da strega Rega Cioè Alle 6 e 20 Prima di andare a scuola Sempre Sempre Esatto Allora ti dico che è veramente difficile Stano a scegli sotto Tre team qua sopra Eh questa qui la vedo Ma che non vuole Aspetta Toccato gli il genio Ok Ah scegli da 7 Uh fortuna si è andata Stata a corte Shelly Stata a corte Shelly Rischiosissimo Un po' non è morta Quasi è successo Attento al genio Genio esatto Bravo Dorothy Bravo Dorothy Kill al momento giusto Ci sta Nemo Ci sta Nemo Ci sta Leone là E lo so Eccolo Ah morì Leone Oh Franco 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 Bravo Mamma mia Sì Chill Allora Stavo gioco molto bene Questo è difficile partire Ma stiamo giocando benissimo In mezzo Franco vieni qua Sto ammazzando Franco Morto Franco Sto qui Sto qui Sto qui Rax non sbaglia niente Allora sotto ci sta Shelly E Eccolo Leone Leone tanto deve jumpare per forza Preso Non c'è neanche Franco Preso Dai Preso No eccolo arriva Morto Arraffa Arraffa Morti Ma dai Gli è rinato Franco O dove gli è rinato Franco Eh quanto ha zompato C'è tanto bene ha beccato il tempismo De quando gli rinasceva E dai però Frank Dacci una mano Zio Ok morto B7 Vai Morti Vai Buon zio No Bipipipipi Esplosivi Che esplosione ragazzi Eh vabbè comunque Le skinner Codice Il doppio Tutto Tutto Arraggando Dovete lasciare La dovete lasciare Se è 4 più 9 Di giuro che mi metto il cappello Anzi metto il cappello Quell'ultima partita Eccolo Vai Meno sbaglio un po' Il cappellino Mamma mia La scaramanzia Comunque qui stiamo andando in record 11.200 Non so se qualcuno intanto Ci ha fatto caso Però Tanto per no qui è tosta tosta muoveremo come la gestiamo lo spoglie ci può stare ciucciati l'osso ciucciati l'osso ciucciati così che sposto come partito c'è morire dove su 22 io non so se lui c'è stata qualcuno forse della forse davanti è un leon mortissima al centro con 500 presa anche morti se infatti è un po tosta se mi avvicino troppo un casino l'ho visto visto ok corvo sta giù comunque l'hanno sciocca di tutti questi skin quando mi vedi desti cagnolini sti cagnolini raga è pieno dei lupi o dai 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 paperigna che sta difficile arrivo leone invisibile attento presa o non ho preso non si sa perché mamma mia cioè quello lì è riuscita a scappa se è nascosto dentro un cavolo dei cespugli e quella no 200 non c'è credo e vediamo se c'è un po addosso no aspetta arriva 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 cerchiamo di andare un altro team perché vuole il team che vincerà probabilmente è qui c'è 34 qui c'è stare on preso guarda un colpo di perte cambia la partita ragazzi ti cambia proprio tutto vado sopra io e mi faccio affari miei tanto c'è pure la jump no io 10 10 no c'è ori di no mamma mia non prendi paura pocax corri oh mio dio te sta venendo super per te sta venendo super per lo stai non puoi capire quello che è successo tutti eh sono morto va bene anche la terza va benissimo anche la terza ma tu non puoi capire quello che ho fatto su no 3 win va bene 0 per 9 27 mamma mia è stata tosta però abbiamo fatto il nostro raga cioè io ve lo dico senza bene noi ragazzoni io direi che per questo video è tutto ringraziamo la presenza sempre top del nostro grax nazionale vi ricordo raga il codice comunque eccola l'offerta ancora qua è disponibile ve lo ricordo 2000 like e si shoppa la pazza shelly streghetta ragazzoni quindi vedete voi vedete voi detto questo un bacione al vostro tortelloni niente davidende salutare guarda ho fatto così con l'indice allora di coppia guardarsi che da sto gesto tipo capisce però niente l'intesa lega ancora un po di lag ciao ciao ragazzoni ciao ciao